La scienza incontra le menti visionarie che hanno fatto la storia del cinema. Da Argo, la vera storia, a Spider-Man, fino al mito di Star Trek, Discovery Science svela i segreti che ne hanno permesso la realizzazione. Un emozionante viaggio per raccontare la scienza del cinema. Ogni lunedì dalle 22.05 su Discovery Science. Grazie.